Mantenere buoni rapporti con un ex può sembrare controintuitivo, ma ci sono motivazioni valide e costruttive per cui potrebbe essere una scelta estremamente saggia. Ecco tre buoni motivi per restare in buoni rapporti con il tuo ex. Numero uno, la crescita personale condivisa. La fine di una relazione non cancella le esperienze comuni o ciò che avete imparato l'uno dall'altra. Mantenere un rapporto civile può permettervi di continuare a condividere intuizioni e crescita personale in un contesto non necessariamente romantico. Questo tipo di scambio può arricchire entrambi, offrendo prospettive uniche che solo qualcuno che vi ha conosciuto così intimamente può fornirvi. Numero due, rete di supporto ampliata. Le relazioni passate non devono necessariamente finire con l'essere estranei. Avere un ex come parte della tua rete di supporto può essere prezioso, specialmente se condividete delle amicizie comuni, degli interessi o addirittura delle sfide professionali. Questo rapporto basato sul rispetto reciproco e sulla comprensione può offrire un sostegno unico nei momenti di necessità, dato che l'altra persona conosce già molti aspetti della tua storia e della tua personalità. Numero tre, modello positivo. Se avete dei figli insieme o fate parte dello stesso circolo di persone, mantenere buoni rapporti con un ex può servire da esempio positivo di maturità e di gestione dei cambiamenti che inevitabilmente avvengono nella vita. Avere questa capacità mostra che è in qualche modo possibile superare le differenze e lavorare insieme per il bene comune, promuovendo un ambiente di rispetto e di comprensione reciproca. Questo atteggiamento sarà sicuramente particolarmente benefico per i bambini, che vedranno che le relazioni possono trasformarsi ma non necessariamente finire in qualcosa di totalmente negativo. In definitiva, scegliere e applicarsi affinché si mantenga un buon rapporto con il proprio ex è un'espressione di maturità e di apertura emotiva. Questo può aprire le porte a nuove forme di collaborazione, di sostegno reciproco, arricchendo la vita di entrambi. Se credi che questo video possa essere utile a qualcuno, farglielo vedere, scrivimi nei commenti o mandami un messaggio e ovviamente continua a seguirmi. Grazie a tutti!